Penalizzate la Juventus a trattino basso, i vecchi dirigenti tremano, Inius 24 It, appena il tempo di insediarsi, due giorni fa, e il nuovo Sada della Juventus deve già affrontare la prima grana Perché oggi è il giorno della parola definitiva sul caso Plus Valenze, che la scorsa primavera era stato archiviato con una soluzione per tutti Questa volta però rispetto ad allora ci sono le nuove carte della Procura di Torino, e dell'inchiesta Prisma In tutto 14.000 pagine che hanno aggiunto molti elementi nuovi nella vicenda, e per questo la richiesta della Procura Federale della FIGC è molto diversa e più pesante rispetto ad allora, anche se la decisione finale spetterà alla Corte Federale d'Appello Intanto però c'è la richiesta del procuratore, Giuseppe Chinè Nell'udienza che ha aperto la giornata ha presentato il conto, nove punti di penalizzazione per la Juventus nel campionato in corso per la gravità dei fatti contestati Una sanzione molto più dura rispetto al primo processo, per rendere molto e più dura la vita ai bianconeri in chiave Coppe Europee Ma poi ci sono anche i dirigenti Il procuratore ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per l'ex direttore sportivo Paratici, 16 mesi per l'ex presidente Andrea Agnelli, 12 mesi per i dirigenti Nedved, Garimberti e Arriva Bene, 10 mesi e 20 giorni per l'attuale DS Cherubini Finalizzate la Juventus Finalizzate la Juventus Funzul 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti